E' da dentro, dai, andiamo. In che senso andiamo? Nel senso che fa parte dell'accordo, entriamo e l'impossibilitiamo a proseguire. Impossibilitiamo a proseguire, ad oggi rimane un concetto abbastanza nebuloso. Queste qua non le premesse non sono chiare. Che cos'è che non è chiaro? Dobbiamo entrare e diciamo... Che cazzo ne so, fermi tutti, polizia! Eh no, con il cazzo che dico fermi tutti, polizia! Io queste frasi di estrema destra non le dico. Allora che diciano? E' una cosa semplice, tipo basta. In che senso? Un tono forte, anche autorevole. Basta! No? Lasciamo perdere, ci sono altre opzioni? Però scusate un attimo, perché a me è venuto un dubbio. E non sono sicurissimo di aver chiuso il furgone. Ma come non sei sicuro? Tu a una cosa devi pensare, al furgone! E proprio perché ci ho pensato che mi è venuto in mente. Non adesso! Ma come non è chiuso? Io non ho detto tutte le mie cose. Aspetta, ma tutti i ricordi che io ho fatto questo gesto. Io non l'ho fatto. Io non l'ho fatto. Ah, basta! Sembriamo una classe di ragazzini in cita. Abbiamo fatto cose molto peggiori di queste. Adesso ci spaventiamo per quattro spacciatori di arance. Su! Dai Giulio, vieni tu qua. Forza. Seguimi. Mi permesso. Prendi. Perfetto che ti aiuti. No! Fai perlo. Su. Dai. Dai. Alza, 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 alza. Dai, alza, alza. Dai, alza, 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 Grazie a tutti.